Shalom fratelli e sorelle in Cristo. Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù entrare in una casa col desiderio di staccare un po' e vorrebbe restare nascosto. Ma non può restare nascosto al desiderio di una donna pagana che, nella sua condizione disperata, vede in Gesù la sua unica speranza. Sembra quasi che questa donna avesse già ascoltato in corso le parole di Gesù. «Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Lei ne è sicura e fa proprio così. Lo cerca, lo trova e si getta ai suoi piedi. E poi ancora bussa alla porta, supplica il Signore. Ma lo fa con delicatezza, non sbatte i pugni sulla porta, perché nella sua ferma speranza sa che non ci sarà bisogno di sfondarla. «Bussate e vi sarà aperto». La risposta di Gesù suona come un'umiliazione. «Lascia prima che si sazzino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei, che già all'inizio si era gettata ai piedi di Gesù e perciò si era messa a terra, è una donna umile e ancora una volta si pone a terra, sotto la tavola, sicura di poter accogliere le bricele della bontà del figlio di Dio. Così questa donna pagana, con la sua umiltà, apre le porte al bene che Dio ha inserbo per lei. «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Ricordiamoci sempre anche noi. L'umiltà, la sottomissione, l'obbedienza aprono le porte ai disegni divini. Preghiamo. «Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita, e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore, e a Maria, tua e nostra madre. Amen».